Buongiorno a tutti e grazie per essere tornati a studiare qui con me Excel. Come vediamo a monitor, volevo rispondere a una domanda ricorrente, ovvero come si può realizzare un preventivo con un elenco di voci automatiche, ovvero vado a inserire l'articolo ed Excel completa tutti i vari campi in automatico, il prezzo, l'IVA, il prezzo evato, per poi crearmi il totale dell'IVA, il totale dell'importo e poi un totale comprensivo d'IVA imponibile. Di che cosa abbiamo bisogno? Sicuramente avremo bisogno di un listino che mi proponga l'elenco degli articoli che ho a disposizione e poi di un modello che va a prendere le voci a listino e poi delle formule che in base all'articolo inserito mi propongano il prezzo. In questo caso mi sono calata nei panni di un rivenditore di componenti per computer, che siano hardware o software, quindi l'IVA in questo caso è sempre al 22%, ma è chiaro che questa può cambiare a seconda del prodotto che vado a proporre, perché l'IVA può essere al 22, al 10, al 4 o addirittura un prodotto può anche essere esente IVA. Questo dipenderà dalla vostra situazione particolare. Le funzioni che affronteremo saranno sicuramente la funzione cerca.vert, che rappresenterà il cuore della nostra lezione, e poi la funzione se errore, che ci permetterà di evitare che si visualizzi un errore nel momento in cui la funzione cerca.vert non trovasse ancora una corrispondenza perché non è ancora indicata. È chiaro che poi utilizzeremo prodotti, somme, percentuali e quant'altro. In più vedremo l'impaginazione di un proforma di preventivo. Prima di iniziare, vi dico subito che la prima parte sarà dedicata all'impaginazione del nostro preventivo. Se non vi interessa tutta la parte di formati e impaginazione per l'appunto, utilizzate l'elenco dei capitoli in basso e passate all'argomento successivo, cioè la costruzione vera e propria e pratica del preventivo. Vi basterà cliccare e YouTube vi porterà direttamente al momento interessato. Ti direi che cominciamo subito dalla creazione di un nuovo foglio. Andiamo nel menu visualizza e chiediamo di visualizzare layout di pagina, in modo da avere subito sotto controllo lo spazio a disposizione per il nostro preventivo. Questo mi permette di tornare alla visualizzazione normale, che sicuramente è più pratica per la compilazione di un foglio, e attivare la visualizzazione di queste linee tratteggiate. Ingrandiamo, ingrandiamo. Non so se riuscite a vedere a monitor perché sono veramente chiare, però sono leggere ma è sufficiente per avere l'indicazione del limite in cui finisce il nostro documento 4. Esattamente qui, limite inferiore e limite destro. Detto questo, vado a selezionare la mia area. Ritorno indietro con lo zoom. E poi dal menu bordi, seleziono un bordo un pochettino più spesso, confermo il colore nero e poi applico una struttura bordata alla mia selezione. Dando l'ok, a questo punto io ho ben visibile l'area sulla quale poter lavorare. Chiaro che poi io potrò comunque modificarla, però se non altro ho un punto di riferimento di partenza che mi permette di lavorare con più praticità rispetto al menu visualizza, lei ha di pagina che effettivamente diventa un pochettino più macchinoso, almeno per quanto mi riguarda. Poi ognuno lavora come preferisce. Torniamo alla visualizzazione normale e andiamo a inserire i campi di intestazione del preventivo. Adesso per velocità e praticità andrò a prendere l'intestazione del preventivo che già ho redatto, copio e vado a incollare esclusivamente i valori in modo da portare via la formattazione che potrebbero dare un po' di fastidio. Sistemo un attimo. Spostando le celle e adattandole al nuovo foglio. Vi ricordo che per spostare un contenuto semplicemente andate a selezionare le celle o la cella e poi vi posizionate lungo il bordo. Quando il mouse cambia forma prendete trascinate e queste assumeranno una nuova posizione, la nuova posizione. La data preventivo ha perso il suo formato, quindi glielo riassegno. Seleziono la colonna A, clicco due volte per adattare la larghezza. L'intestazione del preventivo la porto in alto e siamo a posto. Elimino le righe di troppo, aumento il carattere e tenendo premuto CTRL per selezionare intervalli di celle separati e non adiacenti, assegno un grassetto. In questa maniera. Evidenzio e poi applico un bordo inferiore per separare la parte di intestazione da quella poi operativa sostanzialmente. Ecco, in questo caso tra l'altro avendo lavorato e avendo aumentato i caratteri, modificato la grandezza, Excel ha già sforato il contenuto oltre il limite di stampa. Non è un problema perché poi vedremo che nel menu visualizza anteprima interruzioni di pagine. Io potrò spostare i margini e permettere a Excel di stampare tutto all'interno di un unico foglio, ma lo vediamo dopo. Sicuramente si sposteranno altre cose. Ok, a questo punto andiamo a inserire i dati della mia azienda in basso. Qua dire va bene. Così accelero. E poi vado a centrare. Dal menu on unisci centra. Clicco due volte per poter applicare lo stesso formato anche alle righe inferiori e non dover tutte le volte ricliccare sullo strumento copia formato. Esc. Mia azienda lo mettiamo un pochettino diverso e poi anche in questo caso direi che mettiamo un bordo che divida bene visivamente la sezione. Possiamo cominciare con la parte davvero interessante. Qui avremo l'elenco dei nostri prodotti, qui il prezzo, l'iva e qui il prezzo evato. A questo punto qui avremo lo spazio per inserire i nostri articoli. Gli articoli come da richiesta non dovranno essere scritti manualmente, ma potranno essere richiamati da un menu a tendina. Quindi utilizzeremo il menu dati e poi la convalida dei dati. Per farlo andiamo a evidenziare lo spazio che andremo a riservare all'elenco dei nostri articoli. Una ventina di righe direi che può essere sufficiente, comunque può essere modificato in qualsiasi momento. E poi dal menu convalida dati, dalla scheda impostazione, attiviamo l'elenco e cliccando alla voce origine cambiamo foglio. Andiamo sul listino, quindi qua in basso, e andiamo a evidenziare l'elenco degli articoli presenti nel nostro listino. Possiamo togliere l'opzione per il messaggio di input e l'opzione per il messaggio di errore per pulire un pochettino la procedura. Diamo l'ok e a questo punto, naturalmente, aprendo la tendina, noi avremo i nostri articoli in elenco. Vi ricordo che c'è una lezione apposta sulla creazione del menu a discesa. Vi lascio tutto nelle schede in alto e in descrizione. A questo punto dobbiamo fare in modo che Excel, nel momento in cui va a visualizzare un prodotto, mi indichi in automatico il prezzo. Per farlo utilizzeremo la funzione cerca.vert. Anche in questo caso io ho dedicato una lezione a questo argomento e vi rimando a quella, molto più lunga, approfondita, non sto a ripetermi in questa sede. Vi lascio sempre i riferimenti in alto e in basso. In ogni caso la funzione cerca.vert serve proprio per chiamare un determinato dato in corrispondenza di un altro. In poche parole diremo ad Excel. Se trovi questo testo, ridammi questo prezzo. Se ne trovi un altro, ridammi quell'altro relativo a quel testo, a quella stringa. Quindi attiviamo da fdx la funzione cerca.vert, eccola qua, diamo l'ok e andiamo a compilare le voci che Excel ci chiede. Prima domanda, qual è il valore da cercare? Il valore da cercare è il nome dell'articolo. Seconda domanda, dove vado a cercare questo nome? Quindi cambierò foglio e andrò a evidenziare il nostro listino. Tutto quanto. Per sigillare questa selezione, quindi per cristallizzarla in questa posizione, andrò a effettuare la selezione di questo intervallo di celle e poi andrò a premere F4 per inserire i dollarini davanti a righe e colonne e permettere appunto a questa selezione di rimanere ferma. I riferimenti in questo caso quindi diventano assoluti e non relativi. Anche in questo caso c'è una lezione dedicata al discorso dei riferimenti assoluti e relativi. Comunque velocemente vado a bloccare questa selezione perché dovrà rimanere ferma in quella posizione anche nel momento in cui successivamente utilizzerò il quadratino di riempimento per trascinare verso il basso e riportarmi la stessa formula in tutti gli altri record perché naturalmente non scriveremo a mano ogni procedura. Indice, ovvero in quale colonna risiede il dato che vuoi riportare quando trovo il valore indicato in A14? La colonna è la seconda, quindi andrò a scrivere 2. Perché 2? Perché il valore da riportare è nella seconda colonna rispetto alla matrice selezionata. Questa è la colonna 1 e questa è la colonna 2. È un intervallo? E la risposta è falso, non è un intervallo perché il prezzo è un valore preciso. Do l'ok ed Excel mi ripropone il prezzo di DR416 eccetera. Quando e se dovessi cambiare tipo di articolo ovviamente anche il prezzo andrebbe ad aggiornarsi in base alla nuova selezione. Perfetto. Il nostro elenco arriva fino alla riga 34 quindi anche la funzione cerca.vert dovrà lavorare fino alla riga 34. C'è un problema però. Naturalmente non trovando gli elementi da cercare la funzione cerca.vert mi dice guarda che non trovo nessuna corrispondenza quindi mi dà un errore. Non è carino da vedere, non possiamo consegnare un preventivo con questo errore nonostante comunque io possa chiedere durante la stampa di non stampare gli errori. Però togliamoli proprio dalla visualizzazione. In questo caso allora ci torna utile una funzione che si chiama seerrore. Ovvero nel momento in cui c'è un errore in una cella Excel farà qualcosa. Nel nostro caso Excel non scriverà assolutamente nulla. Proviamo ad applicare la funzione seerrore in questa cella a parte giusto per vedere come è strutturata a livello di sintassi la formula per poi riutilizzarla manualmente qua dentro. fdx seerrore ecco mi chiede due cose un valore da controllare e io in questo caso posso chiedergli di controllare il valore in cui c'è scritto il prezzo che sarà tra l'altro il valore che mi riporterà nel caso in cui non trovasse errori. Quindi se in valore c'è il riferimento di una cella lui nel caso in cui non trovasse nessun errore mi riproporrà il contenuto della cella g14. Se invece trovasse un errore riproponimi questa stringa. Proviamo a dargli un errore. Cance qua non trovando corrispondenza mi dà un errore allora Excel mi dirà ok c'è un errore. Se non voglio che compaia nulla allora apro e chiudo le virgolette indico ad Excel di mostrarmi un campo vuoto e ok effettivamente va a togliermi qualsiasi tipo di segnale. Se non c'è l'errore mi ripropone il testo della cella se invece c'è l'errore non mi ripropone nulla ed è quello che faremo proprio qui ma annidando le due funzioni. La struttura è questa. Il primo valore in cui lui effettua il controllo. Una volta effettuato il controllo nel caso in cui ci sia un messaggio d'errore mi restituirà ciò che vado a scrivere nel secondo argomento. A questo punto è facile capire che tutta la funzione cerca.vert sarà ciò che andrò a inserire nel valore 1. Effettuerà la ricerca e se la ricerca darà un errore mi darà questo altrimenti mi andrà a restituire il risultato della funzione cerca.vert. spero che sia abbastanza chiaro. Andrò a posizionarmi qui metterò la funzione se.errore apro la parentesi in cui andrò a scrivere il primo argomento cioè la funzione cerca.vert che già ho scritto e poi punto virgola per inserire l'argomento in caso di errore. In questo caso gli dirò se c'è un errore non mi mostrare nulla. Chiudo la parentesi e do invio ed ecco che effettivamente funziona. Se Excel trova l'argomento la funzione cerca.vert non restituisce se c'è un errore mi propone il prezzo. Questa qui possiamo cancellarla in realtà. Se invece non trova nessuna corrispondenza Excel nota che c'è un errore allora in caso di errore mi ripropone un argomento vuoto. Prendo tiro giù e naturalmente non vedrò ancora nulla e quindi ciò mi permetterà di compilare con libertà le varie componenti del preventivo senza visualizzare tutti quei messaggi di errore veramente brutti da vedere e quindi potrò andare avanti a compilare in maniera proprio rilassata. Adesso andiamo a calcolarci l'iva. L'iva in questo caso è sempre il 22 per cento quindi semplicemente metterò l'uguale prenderò il prezzo e lo moltiplicherò per questa percentuale 22 per cento. Anche qui do l'ok e trascino verso il basso fino alla riga 34. Perfetto anche in questo caso se noi prendiamo una cella vuota e la moltiplichiamo per una percentuale Excel non può fare altro che proporci un errore. Quindi anche qui avremo bisogno della funzione se errore. Se punto errore. Apro la parentesi. Questo è il primo argomento. Metto il punto e virgola. Se il primo argomento da un errore proponimi una cella vuota cioè non mostrare niente. Di nuovo do l'invio. Doppio clic per completare tutto e sono a posto. Vado a nascondere gli errori. Per il prezzo evato farò la stessa cosa. Prima vado a calcolare il prezzo evato. Prezzo più IVA. Quindi G14 più H14. Do l'invio. Porto giù. E poi anche qui se errore. Se punto errore. Apro la parentesi. Questo è il primo argomento. Metto il punto e virgola. Apro e chiudo virgolette. Do l'invio. Successivamente porto giù. Ottimo. Quindi se io vado a cancellare non c'è nessun errore. Se io vado a compilare. A questo punto Excel me compila in automatico il prezzo l'IVA e il prezzo evato. Che cosa manca? Manca di sicuro il totale delle varie voci. Abbiamo detto che compiliamo fin qua. Quindi i totali li metterei dalla riga 36. Quindi per essere chiari e capirci bene totale, totale, totale IVA e totale evato. Andiamo in HOM. Richiamiamoci il simbolo di sommatoria. Così facciamo prima la nostra somma. Il totale sarà il totale dei prezzi non ivati. Quindi vado a effettuare la selezione da G14 a G34 che è lo spazio dedicato come abbiamo visto prima all'inserimento dei prodotti. Do l'invio. E mi dice 174. Il totale IVA sarà la somma dell'intervallo di celle da H14 a H34. Mentre il totale IVA può essere la somma di questi o essere la somma di questi due. Non cambia assolutamente nulla. Selezioniamo pure i due importi e diamo l'ok. Quindi questa qui, questa stringa la metterò un pochettino più evidenziata in modo che sia chiaro che questo è il nostro totale. Possiamo anche in questo caso inserire un modo superiore per distinguere visivamente le varie parti. Allarghiamo un po' questa colonna in modo da far stare bene le voci. Vediamo se tutto funziona. Aggiungiamo un antivirus. Tutto viene recalcolato. Se invece cancello tutto quanto non c'è nessun messaggio di errore e gli importi vengono portati a zero. Ottimo. Un'ultima cosa di sicuro meglio se assegniamo il formato valuta. Mettiamo l'euro. Funziona tutto bene. L'ultima cosa che dobbiamo fare è assestare un po' l'impaginato. Quindi nel menu visualizza andiamo in anteprima interruzione di pagina come abbiamo accennato precedentemente e ho aumentato un po' lo zoom in modo che sia più visibile. Prendo il margine indicato da Excel perché in questo caso lui fermerebbe la stampa in corrispondenza della colonna H. Infatti se vado nel menu file stampa notiamo proprio che va a fermarsi alla voce IVA e quindi non va bene assolutamente. Prendo il mio margine e lo trascino oltrepassando la colonna prezzo evato. Quindi delimitiamo la stampa alla colonna I. Sistemato il margine destro andiamo a prenderci anche il margine inferiore e portiamocelo su in modo da racchiudere tutto all'interno nello spazio che ci serve e andiamo a togliere i bordi che prima ho impostato per permettermi di visualizzare meglio i limiti del documento. Quindi evidenzio la colonna J e dal menu home gli dico nessun bordo. Qua anche non ho più niente però per sicurezza tolgo i bordi. I bordi li abbiamo assegnati anche alla riga in alto quindi nessun bordo. Anche alla colonna A gli tolgo i bordi. Anche dalla voce in basso magari rimettiamo invece questi. Altri bordi mettiamo superiore e inferiore per riattivare l'opzione box diciamo. Magari possiamo aumentare l'altezza delle righe in modo che gli articoli non siano così appiccicati uno all'altro. Quindi dal menu home formato altezza righe direi che possiamo dare un doppio dell'altezza magari non proprio il doppio 20 20 punti direi che potrebbe andare bene. Ascendiamo l'allineamento in centro verticalmente e direi che siamo praticamente a posto. Dal menu file stampiamo l'impaginato è direi perfetto. Ecco qua il nostro preventivo che si aggiorna in maniera automatica in base alla voce che vado ad inserire nel record qua. Spero di aver risposto alla domanda. Se sì lasciatemi un like anche per supportare il mio lavoro. Scrivetemi un commento per eventuali dubbi o anche semplicemente per dirmi che siete passati da me. E ricordatevi che sul mio canale YouTube naturalmente alla playlist corso Excel certificato trovate per l'appunto un corso completo di Excel che parte dalle basi e vi prepara a superare l'esame per ottenere la certificazione Microsoft. Insegno Excel da quasi vent'anni quindi vi assicuro che il corso è strutturato bene per permettervi di imparare in maniera molto molto semplice. Per qualsiasi dubbio comunque contattatemi. Seguitemi anche sugli altri social Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sono sempre grafica e formazione. Ancora una cosa se vi interessa scaricare questo esercizio già compilato per avere comunque il pro forma fatto andate sul mio sito graficaformazione.com cercate preventivo inserendo qua la parola chiave oppure navigando la voce tutorial categoria Excel. Trovate tutte le lezioni del corso in questa posizione. Un caro saluto e a presto. Ciao ciao!